No tesoro, non toccarla. Puoi prendermi i tovaglioli, quelli che abbiamo messo a Natale. Puoi prendermi i tovaglioli. Ha davvero un profumino direzioso. Grazie. Vieni, Giacchi. Che bello, è fantastico. Hai superato te stessa. Dove ci sediamo? Vieni qui. Barbie, sediti vicino. Accidenti, che bello. Ah, grazie Giacchi. Ti prego a comodarlo. Ah, hai messo il servizio buono. Eh sì, ha un profumo fantastico. Padre vuole dire una preghiera. Benedici, oh Signore, questi tuoi doni che abbiamo ricevuto grazie alla tua generosità. Rendiamo grazie al nostro Signore Gesù. Spettila. Amen. Jill? Grazie, Ian. Volentieri. Lei ne vuole, padre? Oh no. Solo acqua, grazie. Io sto morendo di fame. Aspetta. Papà vorrebbe fare un brindisi. Alla cuoca. Grazie. E a te bello aiuto. Adoro il chili. Ah, davvero? Sì. Piaci anche a me. Bene. C'è della carne dentro? No. No, non c'è. È vegetariano. Ah. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Che c'è? È buonissimo. È vero, non riesco a credere che sia senza carne. È buonissimo, davvero. Ci ha messo l'origano. È proprio come la preparava mia madre. Nica, puoi passarmi il sale? Grazie. Eccola. Sapete, quella bambola ha un'aria in qualche modo familiare. Padre, tutti avevano le bambole tipo bello negli anni Ottanta. Anche mio fratello. Anche il mio. Dici sul serio? Sì. Andiamo. Non posso crederci. Mi ricordo che ne hanno parlato al notiziario. Cioè, c'era gente che faceva la fila tutta la notte per comprarle. Come con i puffi e i bamboli del campo incantato. Eccle. 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 Elis, tesoro, qualcosa non va? Ha un sapore strano Secondo me ci abbiamo messo troppo rigano Ma Elis, tesoro, non è così male Mangia Grazie a tutti Padre, qualcosa non va? Mi dispiace molto ma ora è meglio che vada Oh mio dio padre, si sente male? Oh no no, sto bene Ho un appuntamento in chiesa Nika, grazie mille, il cilio era delizioso Padre, se vuoi? No, ti prego, perdonami Non voglio essere scortese Ci vediamo domani mattina Al cimitero Buonanotte Mi dispiace davvero No, ti prego, perdonami Dov'è? Di qua Che è successo? Ha perso il controllo e li ha urtati Penso fosse ubriaco No, no, non mi quadra, io lo conosco Vado alla sua parrocchia, non beve più Sei proprio sicuro? È il mio sponsor Credimi, avrei voglia di bere dopo averlo visto Cristo santo Rimasto schiacciato, ha perso molto sangue ma non sappiamo da dove Padre riesce a sentirmi Padre Resistala, tireremo fuori Toglietelo da lì, cosa state aspettando? Non credo sia prudente Morirà dissanguato, tiratelo fuori Ok, pronto Al mio tre Uno Due Tre Grazie a tutti Grazie.